Ci troviamo nella zona industriale di Via Ticca ed è proprio da qui che alcuni cittadini ci hanno contattato per farci sapere un problema, una preoccupazione che loro stanno vivendo proprio in questi giorni. Si tratta infatti dell'installazione di un'antenna, un'antenna radio che presumibilmente potrebbe provocare dei problemi di inquinamento a livello elettromagnetico. Noi abbiamo deciso di incontrarli, abbiamo incontrato sia un abitante di Mulino Becciu, quartiere che sta proprio in questa zona, e il presidente della Commissione per i Servizi Tecnologici del Comune di Cagliari. Fabrizio Marcello, di che cosa si tratta? Si tratta di installare un'antenna elettromagnetica di 40 metri e quindi avendo già le autorizzazioni da parte del Comune i cittadini sono fortemente preoccupati del problema e quindi stiamo cercando di capire se è possibile poter interrompere questa installazione e quindi spostarla in un altro sito oppure accettare naturalmente che questa installazione ci sia però ponendo il problema che è un problema che sta nascendo e quindi siamo fortemente preoccupati. Quindi ho raccolto le preoccupazioni da parte dei cittadini e anche io sono un cittadino di Mulino Becciu e quindi giustamente le preoccupazioni devono essere anche sedate visto che potrebbe trattarsi di un problema sanitario. In assenza di una normativa specifica su questo argomento come intendete muovervi? Intendiamo muoverci prima di tutto a livello regionale sollecitando la regione Sardegna affinché legiferi in questa materia e poi i comuni si possano adattare a questo punto con una normativa anche interna per il problema stesso. Mentre per quanto riguarda i cittadini che abitano in quest'area le richieste quali sarebbero? Noi da semplici cittadini in nome di una democrazia partecipata chiediamo semplicemente un dibattito pubblico.